ciao a tutti pastizioni e bentornati nella mia cucina come state spero bene oggi preparerò dei biscotti per la colazione di semola rimacinata la preparazione è facilissima andrò a inserire tutti gli ingredienti nella planetaria vi ricordo che gli ingredienti ve li lascio in descrizione e con la foglia andrò ad impastare finché l'impasto non si compatta e si stacca dalle pareti a quel punto è pronta quindi iniziamo la semola zucchero lievito al posto del lievito potete utilizzare anche l'ammoniaca per dolci vaniglia al posto della vaniglia potete utilizzare scorza di limone scorza d'arance insomma potete aromatizzarli come più vi piacciono strutto al posto dello strutto potete usare tranquillamente il burro o anche l'olio quindi impastiamo il latte lo inserirò poco per volta l'impasto si è staccato dalle pareti quindi è pronto bello morbido ora lo avvolgerò con la pellicola trasparente e lo farò riposare in frigorifero per circa 30 minuti non no ma no Musica 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 Musica